Ok. Ma che è la sguida? Sguida. Ma no, ma che è? Ma che è la sguida? Le 8 o 4? Oddio, no, le 7 e mezza. Ferdinando, scusami, madonna mia, Ferdinando, scusami. E io sto dormendo ancora. Abbi pazienza, dammi 10 minuti un po' tutto, mi faccio una scioccolta e velocemente scendo, ok? Ferdinando, scusami, io, e niente, sto dormendo, sto sognando, addirittura sto sognando. Ciao, 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 scusami. Ma che è? E chi è? Ferdinando, quello vero. E chi è? Vediamo, cos'è lo dico? Eh, dice. Il libretto, ma non c'è qua, no? Sì, lui, chi è? Il libretto, hai chiesto il libretto? Non ce l'ho, non ce l'abbiamo il libretto, faccio la punta, quella che è. No, perché c'è questo della macchina, vuole il libretto, per dire la pigliata. Vediamo, che fa la pigliata, perché è faticato, mi ha chiesto il libretto, per dire ando. Non ce l'ho. Un attimo su, eh. Ma c'è che problema, è rubata, è rubata. Ma che è rubata? È rubata, un attimo, un attimo sotto, lo prendo lì, non la prendo lì. Aspetta un momento. Grazie a te che ci andiamo, vai, andiamo. Aspetta un momento. Andiamo che si fa tardi. GPL. Che è? Dal 2005. Sono cinque anni. Eh, sì. La macchina a casa da cinque anni. Mi si rimpianta, un tempo fa, non si è dimenticato. Però di prendere i soldi da me non ti sei mai dimenticato. Che c'è? Tu devi prendere i soldi di dividere le spese della macchina. Dividere le spese della macchina a benzina. Ma questa con 25 euro fa 400 chilometri, che divide l'altro? Dividere 400 chilometri di 5 euro. Ma di fatto un sacco e i soldi con la macchina. Sai quanti i soldi mi hanno fatto? Vabbè, fa niente, non ci pensiamo. Su fatto che è 2.600 euro. Lo so più, lo so più, lo so più. Sì, bemmo male. Ma poi, scusa, questo l'impianto l'ho pagato io? No, l'ho pagato io, vediamo che l'impianto a questo, anzi, ho messo una volta di soldi più. Vabbè, andiamo, non fa niente, lasciamo stare. Fa questo, ti non avveleniamo l'ambiente. No, va niente, no. Niente non assalti. Quindi c'è l'utris, vediamo. C'è l'utris. A presto, a presto, a presto. Aspetta qua, vedi, l'hai riserito qua, vai, aspetta qua, vai, aspetta qua, vai, aspetta qua. Che è? Ditto, a presto. Sì, sì. Sai dove è arrivata questa strada? A Parigi. A Parigi. A Parigi. A Parigi. A Parigi. E chi è a Parigi, vediamo. Io mi parigi. A Parigi. C'è l'un ufficio. A Parigi. Ho capito. A Parigi. 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 A Parigi.